E' ufficiale, il Bitonto non sa più vincere. Il gol di Haddae, realizzato in pieno recupero nel derby giocato in trasferta contro il Biceglie, ha evitato la sconfitta nel turno infrasettimanale della trentesima giornata, ma non è bastato per ritrovare la via del successo, che ai nero-verdi manca addirittura da sei partite, di cui tre, peraltro tutte pareggiate, con Alessandro Potenza in panchina. In questo momento qua stiamo pagando un po' gli episodi, però è anche vero che dal punto di vista della prestazione abbiamo fatto non un passo, due passi indietro rispetto alla prestazione di domenica. Ci possono essere tutte le attenuanti del caso per un campo non ottimale, però dovevamo oggettivamente fare molto molto di più perché adesso, possiamo dire, era l'ultima chance. Da meno 8 a meno 10 la corsa verso il Primato è praticamente compromessa, alla luce del pareggio di Biceglie e della vittoria del Cerignola contro la Lucerina. Ora la vetta è davvero distante per il Bitonto. Gli ho detto prima della gara, questa era la finale, eravamo molto consapevoli, non si faceva bottino pieno su questo campo qua. Oramai non devono aspettare più niente, praticamente si devono suscitare a Cerignola per non vincere il campionato. Quindi mi aspettavo un atteggiamento molto diverso. Ragazzi comunque si sono impegnati, però ci sono partite che con tutto il rispetto per i Biceglie bisognava entrare in campo e indirizzarla in maniera pesante sin dall'inizio. Parole che valgono come un game over, quelle di Alessandro Potenza. C'è un secondo posto in ogni caso da inseguire, sarebbe molto importante in proiezione playoff il meno 2 dal Francavilla. Insigni è un margine recuperabilissimo ad una condizione però. Il Bitonto deve cambiare registro a partire dalla sfida casalinga di domenica contro la Casertana. Fischio d'inizio al Città degli Udini, previsto agli ore 15. Fischio d'inizio al Città degli Udini, previsto agli ore 15.